Chi doveva controllare? Adesso non dicano che è colpa della Lega, siamo allarmisti. Noi sono anni che chiediamo bloccare le partenze e per quelli che arrivano a far veloce a distinguere i profughi veri da quelli che sono immigrati che non ha destini, però controlli medici assolutamente subito. E qua c'è qualcuno, c'è un ministro dell'interno incapace, ci sono prefetture incapaci, ci sono amministrazioni locali incapaci. Il caso di scabbia registrato a Maslianico accende la Lega Nord che entra a gamba tesa nella discussione. Il segretario federale Matteo Salvini in seguito agli ultimi sbarchi ha più volte ribadito la posizione del carroccio sull'accoglienza. Proprio gli ultimi sbarchi peraltro hanno portato sull'area un altro gruppo di profughi nel quale si inserisce il minorenne somalo che ha contratto la malattia. Lo stiamo già subendo, basta guardare in che condizioni è Milano, in che condizioni sono come Varese, anche perché gli altri paesi europei e anche la Svizzera sono più seri di noi, i confini cegliano e li difendono. Penso all'Austria, penso alla Francia, penso ovviamente alla Svizzera. Quindi noi siamo la barzelletta d'Europa, la soluzione c'è, bloccare le partenze, piano piano ci sta arrivando anche l'ONU, ci arriva l'Europa, ci arriveranno da ultimi anche Renzi e Alfano, intervenire in Nord Africa, allestire là dei centri di raccolta e identificazione e poi accogliere quelli che sono rifugiati veri ma lasciare là le migliaia di clandestini. Noi in Italia abbiamo al governo gente che difende gli interessi degli altri, degli italiani, tanto meno dei comaschi. Intanto il deputato leghista, il ariano Nicola Molteni, porta il caso di scabbia scoperto a Maslianico all'attenzione dei ministri Alfano, Interno e Lorenzin Salute attraverso un'interrogazione con la quale chiede di attivare tutte le procedure di tutela della salute pubblica. Al governo Molteni chiede inoltre di prevedere controlli sanitari a tappeto nelle strutture di accoglienza. Casi come quello di Maslianico dimostrano che con i clandestini il governo sta importando epidemie e terrorismo, contesta Molteni. Alfano e Renzi sono una calamità per i nostri territori che rischiano di creare una bomba sociale e sanitaria senza precedenti, dice infine il parlamentare leghista.